Ragazzoli, ciao a tutti. Dato che comunque piano piano inizia ad avvicinarsi il periodo del calciomercato, un periodo che soffro però allo stesso tempo dalla possibilità di parlare di tante cose, ecco mi sembra giusto avvicinarsi a quel periodo parlando di questo giocatore dopo gli articoli usciti ormai qualche giorno fa. Come sempre io nel dubbio vi invito a scaricare OneFootball per rimanere aggiornati su tutte quelle che sono le notizie legate alla Juventus perché insomma pare che proprio l'ex team manager dell'Ajax in un qualche modo abbia proposto alla Juventus il nuovo Pogba, quantomeno così e come l'ha definito lui. Precisamente si parla di Kravenberg il nuovo centrocampista dell'Ajax che da quest'anno se non sbaglio è diventato a tutti gli effetti un giocatore titolare viste poi anche le partenze negli ultimi anni prima di De Jong poi di Van de Beek così in modo tale che poi l'Ajax come da tradizione lancia nuovamente altri giovani poi ovviamente da rivendere. Però alla fine lo conosciamo il modus operandi dell'Ajax e vedendo che comunque l'anno scorso c'è andato De Ligt nel senso va benissimo così a maggior ragione se poi appunto l'ex team manager parlando così dei nuovi gioiellini di casa Ajax butta nel mezzo anche la Juventus. Infatti prima di tutto questo c'è da fare anche una premessa abbastanza importante una premessa di un certo tipo ovviamente quantomeno al momento quantomeno che si sappia la Juventus non è né intenzionata ad acquistare il giocatore né tantomeno quindi di conseguenza è stata fatta un'offerta e proprio non c'è neanche una voce di mercato legata alla possibilità di vedere Kravenberg alla Juventus. E' partito tutto appunto da Ant l'ex team manager che insomma l'ha buttato nella mischia perché ha detto che questo giocatore gli ricorda Paul Pogba che ha forza fisica ha una stazza abbastanza importante appunto è 18enne e 1,90m io non so che c***o mangino in Olanda onestamente ma va benissimo così. Da quello che dice lui ha le caratteristiche per giocare in qualsiasi reparto del centrocampo ha il vizio dell'assist ha il vizio del gol ed è senso io comunque quando uno che era team manager dell'Ajax mi parla di un centrocampista e nei discorsi mi butta in mezzo la Juventus. A me un pochino l'occhio brilla perché tanto alla fine siamo sempre allo stesso punto di partenza. Il centrocampo probabilmente è il vero tasto dolente della Juventus e sai io mi faccio abbindolare anche abbastanza facilmente soprattutto quando poi parla un uomo Ajax o un ex uomo Ajax però che sicuramente nel corso della sua esperienza di talenti sbocciare ne ha visti parecchi e se lui mi va a dire che chi compra questo giocatore qui prende un talento sicuro un talento cristallino un giocatore che sicuramente sarà fenomenale a me onestamente la lacrimuccia scende. Se poi in tutto questo ci mettiamo anche che è un giocatore di Mino Raiola forse iniziamo a capire che probabilmente si parla di un giocatore quantomeno interessante. Su un giocatore che quantomeno ci puoi forse anche provare ad investire anche perché se non ci pensi da solo probabilmente arriva Raiola e te lo butta nel mezzo lui. Quindi da questo punto di vista non è un problema solo che effettivamente una volta che leggi questo e come Pogba ricorda Pogba ho detto andiamo a vedere dico la verità io le partite dell'Ajax non le seguo e quindi nel senso non è che conosco a memoria questo giocatore. Quindi appunto sono andato a vedere così qualche video su YouTube ed effettivamente ragazzi nelle movenze quantomeno ci mancherebbe altro lo ricorda veramente tanto Pogba questo spilungone lo sui mezzo mezzo storto che poi ti va a fare la giocata ti va a fare il tiro dalla distanza ti va a fare i lanci alla Pogba proprio come movimenti come movenze lo ricorda veramente tanto. E io dal certo punto di vista voglio anche sperare che la Juventus possa fare una roba alla Pogba no sicuramente lui non lo andresti a comprare a parametro zero questo ci mancherebbe altro però sai vedendo anche quello che sembra il modus operandi di Pirlo magari prendere il 2002 che lo piazzi lì che magari ti diventa Paul Pogba e che magari vendi a 100 milioni perché comunque stiamo parlando della Juventus. Insomma non è una cosa poi così tanto malvagia io non posso neanche star qui a parlare di cifre perché per esempio Transfermarkt lo valuta 11 milioni se non sbaglio però ovviamente è una valutazione totalmente fittizia. D'altro canto lui appunto da quest'anno può essere considerato un titolare dell'Ajax e la stagione è appena iniziata magari a giugno ti può valere tranquillamente 40 50 60 milioni tanto l'abbiamo visto. L'Ajax ci mette abbastanza poco ad alzare le cifre dei talentini di casa e poi in tutto questo bisognerà anche sempre poi vedere come andrà avanti la situazione Covid ci mancherebbe altro perché di problemi ne sta creando e molto probabilmente continuerà a crearli. Però appunto a parte tutto si fa fatica dare una valutazione economica al giocatore soprattutto nel momento in cui non ci sono neanche voci riguardo possibili trattative quindi no di solito dicono il club chiede 20 milioni magari cifra totalmente a cazzo e però quantomeno una cifra la buttano nella mischia. In questo caso non si può fare neanche di questo detto ciò parlando brevemente in modo serio ma a parte che era serio anche prima no nel senso comunque dicendo la mia vorrei questo giocatore alla Juventus guardate a me sicuramente non mi dispiacerebbe soprattutto poi nel momento in cui si parla di giocatori classe 2002 che vengono dall'Ajax che hanno un certo tipo di caratteristiche che potrebbero effettivamente tornare utili alla Juventus come pare abbia Krabbenberg. Però allo stesso tempo io penso che ormai la Juventus soprattutto poi a centrocampo abbia bisogno di una certezza non di una scommessa ovviamente sarebbe probabilmente una meravigliosa scommessa però stando sempre a quello che era il paragone con Pogba Pogba era arrivato alla Juventus nel 2012 se non sbaglio sì non dovrei sbagliarmi e comunque insomma avevi già Vidal avevi già Pirlo avevi Marchisio ti potevi magari permettere anche il giovane alla Pogba la scommessa alla Pogba in questo momento io penso che la Juventus abbia più bisogno di una certezza in particolar modo lì a centrocampo penso che abbia bisogno di quel centrocampista che se prendi sai che è una garanzia che parte essendo un centrocampista di un certo tipo di un certo livello preferibilmente livello europeo ecco diciamo così però allo stesso tempo se affiancato ad un centrocampista di questo livello qui di questa caratura mi vai a prendere un Cravenberg ecco in caso io sono assolutamente che contento sempre poi per mandare avanti questo famoso progetto giovani no dopo aver preso Arthur 96 McKennie 98 Bentancur e 97 Rabiot comunque se non sbaglio e 95 quindi anche lui non possiamo definirlo assolutamente un vecchio a giugno scadrà finalmente il contratto di Chedira poi magari riuscirai a piazzare qualche colpo qua e là e mi prendi bam il centrocampista top e il Cravenberg della situazione voi fatemi sapere qui sotto con un commento che cosa ne pensate se conoscete il giocatore e se magari eventualmente ci puntereste e in caso contrario dite anche il perché no io lo ribadisco mi piacerebbe vederlo sì però allo stesso tempo penso che la Juventus abbia assolutamente più bisogno di un centrocampista top di un pilastro lì in mezzo del famoso top player in mezzo al campo io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza Juve ciao ciao ciao